Salve popolo di YouTube, noi siamo i mostri da un'altra dimensione e siamo qui per reclutare voi forze della terra per il grandiosissimo Trasher All Star Jam che si svolgerà il 12 gennaio a Rivalta e comprenderà tutta una serie di iniziative volte al divertimento giovanile per sfidare noi. Tutti i musicisti dovranno portare il loro strumento e il loro amplificatore per creare un grandiosissimo Jam. Le nostre canzoni, ovvero le canzoni che suonerete per noi mostri da un'altra galassia, saranno disponibili sul MySpace di Cillo che troverete nel messaggio personale. Le ultime cose da dire sono dovete portare tanta rabbia, tanta carica e tanta forza, perché sennò uccideremo Guido. E vi avverto, non scherziamo, lo uccideremo per davvero. E uccideremo anche voi strozzi della terra. Vi prego, a corrette numerosi per il Trasher All Star Jam e staccate il culo o questi ti uccideranno e non scherzano, mi trattano bene. Il nostro Guido voleva dire qualcosa. Eh Guido, cos'hai da dire? Siamo i mostri da un'altra dimensione e vi uccideremo tutti abitanti della terra, a meno che non sconfiggerete la nostra potenza nel Trasher All Star Jam. Noi, mostri da un'altra dimensione, ci eravamo dimenticati di avervi dato alcuni particolari sulla festa. La prima è che sarà a tema e sarà in maschera, quindi dovrete tutti venire vestiti da mostri da un'altra dimensione per allietare i nostri numerosi occhi. Durante la festa sarà servito un l'autobuffè a base di specialità esotiche e spaziali. E dopo il grande jam ci sarà un momento di improvvisazione su della musica elettronica, di cosa un po' spaziale, e poi un grande DJ set con DJ da tutto l'universo e tutte le dimensioni. Allora, se io non sei pronto a partecipare al Trasher All Star Jam, yeah! Grazie a tutti!